A Ferrara si inaugura la grande pista di piazza di Ostea. 70 atleti di ogni parte d'Italia partecipano ai primi campionati nazionali delle staffette maschili e femminili su pattini a rotelle. La società sportiva Parioli, categoria maschile, e il dopolavoro ferroviario di Trieste, categoria femminile, si classificano prima della gara della staffetta Impero. La società sportiva Parioli 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 artistico. Grazie a tutti.